Noi dobbiamo andare alla Torre di Galatta, che ho deciso oggi, qua in fondo. Cucina di vaso. qui sta la coda irometrica via time to sellings bovdi di dole un po' di stile, insomma, oh cazzo, ah, io le due più cose. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La vecchia Costantinopoli fu costruita proprio qui, vicino al Corno d'Oro, questo specchio d'acqua che fungeva da Porto. Buongiorno, buongiorno. 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 Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. come è? come è? come è? come è? non pari un po' come è? come è? non è? perché non è? non è? non sono... la prima cosa è che Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info e www.mesmerism.info 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 e www.mesmerism.info lottromi ogni receiving noi cercavamo il gran bazar e l'abbiamo trovato la costruzione del futuro nucleo del gran bazar iniziò durante l'inverno del 1455 oggi il gran bazar è un complesso fiorente che impiega 26 mila persone con uno flusso di 300 400 mila visitatori al giorno e contiene più di 4 mila negozi la costruzione del gran bazar iniziò per la costruzione del gran bazar iniziò per la costruzione no i say no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti. Il cocco è di filo, vieni a mangiare il pan. Che è la cosa di mangiare? Dal Pinks. Devo mangiare il pan. Il cocco è venuto a bere. Il cocco è venuto a bere. Il cocco è venuto a bere. Arrivati. Non ce la facevo più. Ecco il camperino. Assaggiamo i dolcetti. Cazzo, 22 euro però. Bosforo di notte. L'ultima chiamata alla preghiera l'abbiamo sentita alle 10. Dopo chilometri di strada, alle 10.30 siamo veramente stanchi e andiamo a nanna. L'obelisco di Teodosio è un obelisco egizio del faraone Tutmosi III, che venne retto per volere dell'imperatore romano. L'entrata è veramente imponente. di trattamento. D'accordo. Grazie a tutti. L'avevamo visitata dieci anni fa, ma anche oggi ci sorprende. E' una strada blu perché ha tantissime strade blu. E' l'olice alla turca. 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 E' la turca. E' la turca. E' l'olice alla 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 turca. Ionice a ValAAAA Oltre al tunnel erosiatico a Isdavool ci sono altri tre ponti. Questo è il più trafficato. Grazie a tutti Grazie a tutti Benvenuti in Asia E questa è la parte asiatica di Istanbul Andiamo in alto strada La strada è buona Alco verde attorno Dunque pallate Con montagne Non molto alte Arriviamo ad Ankara verso le 20 Ceniamo e poi a Nanna Domani si visita la città La Nit Kabir è il mausoleo costruito in onore a Dataturg che fondò la Turchia moderna Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma sono 30 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La foto del suo funerale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti